Allora Andrea Poli, era chiamato il lo che tiene a fugare un pochino i dubbi che si erano proventati domenica scorsa, mi sembra che sia andata bene. Sì, è andata bene, abbiamo giocato una bella partita, abbiamo giocato a parte alcuni sprazzi bene in difesa, abbiamo concesso poco e abbiamo tolto parecchi dubbi perché la scorsa partita abbiamo fatto una brutta prestazione, insomma una prestazione bella ci serviva anche per darci un po' di, come si dice, conforto, stimoli anche perché siamo arrivati agli sgoccioli e il prossimo sabato ci sarà l'ultimo incontro, lo state preparando o aspettate il risultato di domani? No, no, non aspettiamo il risultato di domani, di settimana in settimana lavoriamo per la partita che c'è quindi pensiamo solo alla partita per partita quindi non c'è niente di progettato prima, sono 50 minuti ma sono lunghissimi che per noi bisogna entrare sempre solo con in mente una cosa cioè vincere e togliere così tutti i dubbi senza pensare ma se pareggiamo è questo è quello, dobbiamo entrare per vincere e fare una bella prestazione anche per fare un po' paura alle prossime avversarie che ci saranno in caso che passiamo il turno. Molto bene, con queste parole ringraziamo tutti quanti e arrivederci al prossimo sabato. Grazie a voi.